E' indubbio che parliamo di una squadra molto qualitativa, non la scopro io e lo sta dimostrando. Però è altrettanto indubbio che nelle tre partite che abbiamo fatto noi ho visto una costante crescita. Dalla prima che abbiamo fatto col Parma, che non ci era piaciuta, ma che era la prima dopo un lungo stop, a Brescia secondo me abbiamo già avuto uno step migliorativo, con alcune disattenzioni ancora. Stasera secondo me abbiamo interpretato, la prestazione a me è piaciuta, i ragazzi hanno dato tutto e lo hanno fatto con più ordine rispetto alle precedenti due partite, con più intensità nelle uscite, con più convinzione. E' chiaro che era una parete che dovevamo interpretare nei 95 minuti e scegliere tra due strategie di gioco, togliere gli spazi e creare densità ordinata per poi cercare di ripartire o palleggiando o attaccando gli spazi e negli ultimi minuti per cercare di fare qualcosa in più di accettare l'uno contro uno e quello abbiamo fatto. Non era facile neanche fare gol alla Juve, era più di 500 minuti che non prendeva gol. Noi ce l'abbiamo fatta e abbiamo avuto un paio di situazioni che abbiamo gestito male o letto male che potevano magari metterci nella condizione, mi riferisco all'attacco di impressione anche sul retropassaggio che abbiamo letto e potevamo magari sfruttarlo un pochino meglio. Non sono insoddisfatto della prestazione della squadra, secondo me dal mio arrivo ci avevamo messo circa un mese per poter trovare tempi, equilibri, aggressività e ordine. È chiaro che dopo tre mesi di stop perdi la lettura di queste cose qua e la riconquisti solo giocando e allenando. Sì certo, noi riconosciamo le qualità individuali di una giocata individuale, è anche vero che non siamo abituati comunque riconosciamo il merito dell'avversario ma vogliamo sempre migliorare e quindi valuteremo se in quelle circostanze potevamo fare magari meglio, però è indubbio che ci sono stati tre gol davvero di abilità individuali importanti. Ma certo, io non riesco a concepire lo sport in generale ma il nostro lavoro senza quella passione e quell'intensità da mettere in campo. Io sono convinto che questa squadra abbia le qualità per salvarsi, cerco come dico sempre a loro di staccarmi dal risultato, il risultato non è una cosa che puoi controllare tu personalmente, ci sono troppe imprevisti, troppe cose che non dipendono solo da te, dipendono dall'abilità dell'avversario, dalla direzione di gara, da tante cose. Noi possiamo controllare la nostra prestazione e noi dobbiamo distaccarci serenamente e vedere che si sta rintraprendendo quel percorso di crescita. A me interessa la prestazione perché gioco forza quando inizi a fare delle prestazioni importanti i risultati diventano anche una conseguenza. Ma è chiaro che il calcio o chi fa sport ad alti livelli come facciamo noi, il pubblico è fondamentale. Nessuno si diverte a giocare senza pubblico, ma è altrettanto chiaro che le condizioni sono queste, quindi non avrebbe senso dedicare attenzione a cose che non dipendono da noi. Ma se mi fai una domanda secca e precisa, per me il calcio è dei tifosi e io godo, mi esalto, quando ho la mia gente vicina, soprattutto in questo ambiente dove il peso specifico di chi rappresentiamo è notevole.